buongiorno oggi è la festa dell'esaltazione della santa croce una festa toccante una festa controcorrente come si può esaltare un patibolo uno strumento di condanna ce lo fa capire il vangelo che è preso dal capitolo 3 di giovanni versetti dal 13 al 17 uno stralcio del discorso meraviglioso che gesù nella notte fa a nicodemo un fariseo che cerca la verità ce lo fa capire perché ci dà il senso profondo di quella che è la croce di cristo una croce che ha assunto tutte le altre croci e ha trasformato appunto uno strumento di tortura nel luogo della salvezza perché il senso intimo della croce di cristo è il dono d'amore un dono d'amore che non riguarda solo gesù il figlio ma parte dal padre da dio stesso che ha tanto amato il mondo da donare suo figlio perché il mondo sia salvato è l'amore che diventa donazione totale di sé che è l'identità profonda di dio a dare contenuto alla croce come strumento di salvezza perché sulla croce in cui gesù mostra tutta la misericordia della cuore di dio è proprio nella croce sulla quale egli è issato e innalzato per essere visto da tutte le folle che si manifesta la rivoluzione per l'umanità anche oggi viviamo in un mondo infatti che è ferito dall'odio dalla divisione dall'egoismo anche oggi la superbia continua ad essere una tentazione terribile per ciascuno di noi ebbene guardare a dio che in gesù dona il proprio figlio significa guardare la strada di una spogliazione di un abbandono di sé di un perdersi che se riguarda dio allora può riguardare anche ciascuno di noi se dio sceglie questo percorso eppur mostrandosi così fragile e debole addirittura mortale rimane dio questo significa che la strada della salita al cielo anche per noi può passare solamente per la dimensione della croce esaltare la croce allora significa esaltare la verità dell'amore ma anche la sua profondità anche la sua intensità un amore che non è puro romanticismo che non è sentimento soltanto un amore che è concretissimo totale fedele e duraturo e per questo che innalzato sulla croce gesù continuerà la salita per ritornare a quel cielo da cui è venuto la risurrezione e poi l'ascensione sono l'espressione che conferma di aver intrapreso la strada giusta è per questo che anche noi uomini nell'uomo gesù per essere veramente nella gioia siamo chiamati a salire la stessa strada della croce e poi accedere a condividere la gioia del cielo una vita donata una vita perduta per gli altri una vita offerta solo e sempre per amore è una vita bella proprio come la vita del venerabile don ottorino zanon fondatore di una piccola congregazione missionaria che ha dato tutto se stesso perché possa arrivare questa croce d'amore di cristo fino agli angoli più lontani della terra un prete contento che nell'amore di gesù donato e attraverso di lui donato poi ai fratelli ha trovato il segreto della propria esistenza buona giornata a tutti a ciascuno sotto l'ombra che salva luminosissima della croce di gesù